ciao lettrici e lettori benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale salterò a piepari la fase in cui comincio a dire non so come sia possibile e andiamo subito dritti al punto è già ottobre siamo qui per fare il wrap up delle letture di settembre sospendo qualsiasi commento sul fatto che quest'anno non ho capito dove sia andato come sempre il wrap up delle letture mensili è diviso in due per permettervi di gestire dei video con una lunghezza decente parlerò di tre titoli in questo video e di quattro titoli nel prossimo come sempre gli audiolibri alla fine cominciamo subito da credo la lettura più bella del mese è una delle letture più belle degli ultimi mesi e si tratta di mia cugina rachele di daphne du murier autrice che corteggiavo da tantissimo tempo autrice a dire il vero da cui con cui volevo iniziare partendo dal suo famosissimo rebecca la prima moglie ma per tutta una serie di motivi legati ad un gruppo di lettura ad un club su instagram ho deciso di iniziare da mia cugina rachele il book club si chiama il book club dei viaggiatori ogni due mesi si legge un libro legato ad una zona geografica specifica e la cosa molto bella di questo gruppo è che non solo si parla del libro ma si parla anche proprio della zona in cui è ambientato ci si incontra poi virtualmente o fisicamente per chi può e si parla insieme della lettura in questo caso si trattava della cornovaglia paese ormai in cima alla mia wish list dei viaggi e tra l'altro dove sarei voluta andare a settembre ma ho evitato perché nel periodo in cui ho prenotato c'erano ancora parecchie restrizioni per viaggiare in uk comunque ci sono andata lo stesso tra le pagine di questo libro mia cugina rachele secondo me è un libro maturo con un equilibrio perfetto io l'ho trovato veramente con un equilibrio perfetto tra atmosfere personaggi e trama di fatto la trama non è poi così complessa anzi secondo me è un libro dal ritmo molto lento almeno io l'ho vissuto così sebbene ogni volta che lo prendevo in mano non riuscissi a staccarmene me lo sono proprio assaporato e goduto tanto che in realtà questa lettura ha occupato ben più della prima metà del mese quindi avevo iniziato in realtà a fine agosto e me lo sono portato avanti oltre la metà di settembre perché dico che la storia in realtà la trama insomma non è niente di che perché di fatto noi seguiamo semplicemente la storia del nostro protagonista philip un giovane di 24 25 anni che accoglie nella propria casa la appunto cugina rachele dopo che questa si era legata a suo cugino ambrose ambrose era per philip più di un padre è colui che gli ha insegnato la vita lo ha accudito era il suo tutore ma anche proprio il suo maestro di vita in qualche modo più di un papà appunto la cugina rachele diciamo che è stata coinvolta in alcuni eventi della vita di ambrose che hanno gettato un'ombra su di lei non dico più di questo e appunto philip si troverà a doverla accogliere lei arriva dall'italia in cornovaglia nella sua tenuta perché dico che questo libro ha un equilibrio perfetto perché secondo me questi tre elementi principali quindi le atmosfere i personaggi e la trama sono così ben compenetrati tra di loro con delle atmosfere veramente molto presenti i paesaggi della cornovaglia i colori o l'assenza di colori durante l'inverno la pioggia la nebbia veramente occupano anche la natura i giardini di questa tenuta la natura appunto rigogliosa in alcuni momenti e spoglia in altri sommata a questi personaggi che sono profondi sfaccettati descritti veramente benissimo pieni di contraddizioni al punto che tu in ogni momento non riesci a capire che idea vuoi farti di ognuno di questi personaggi unito poi appunto a questa trama che è abbastanza scarna ma in realtà c'è del mistero che anche qui ti tiene un po' sul bordo della sedia durante la lettura perché non riesci fino all'ultimo a capire che cosa sia successo secondo me è veramente tutto mescolato in maniera molto sapiente una lettura che secondo me ti impone un po' il suo ritmo per alcune persone può essere un libro da divorare per altre come me può essere un libro da assaporare molto lentamente quindi secondo me decide lui in questo caso o decide Daphne du Maurier quale ritmo ognuno di noi vuole dare a questa lettura però veramente ha secondo me tutti gli ingredienti per essere intanto una lettura perfetta per l'autunno cioè secondo me questo è il periodo questi sono i mesi in cui leggere questa autrice e poi proprio profonda ricca misteriosa piena di quasi incantesimi tra virgolette perché questi personaggi sono legati tra di loro da trame molto strane e da sentimenti molto che direi quasi ancestrali definirei quasi ancestrali quindi mi è piaciuto da morire mi ha fatto innamorare della scrittura di Daphne du Maurier voglio assolutamente procurarmi Rebecca la prima moglie ma anche in realtà cornovaglia magica che mi è stato molto consigliato e anche i suoi racconti nuova autrice da conoscere e da esplorare mi ha fatto un effetto simile all'effetto che mi ha fatto Shirley Jackson Shirley Jackson spinge ancora di più su quell'aspetto inquietante forse Daphne du Maurier rimane più ancora un po più elegante rispetto a Shirley Jackson che io trovo già molto elegante come scrittura però insomma mi è venuto un po' da accomunarle anche se qui ci sia forse meno oscurità e più lavoro sui personaggi però insomma mi sono piaciute quasi forse allo stesso modo quindi bellissimo e consigliatissimo questo titolo è anche consigliato il book club dei viaggiatori ve lo linko qui sotto se volete appunto viaggiare grazie ai libri in posti molto diversi tra di loro seconda lettura del mese che era nella mia wish list da tanto tempo ma in realtà si è rivelata completamente diversa rispetto alle mie aspettative è stato Gatti molto speciali di Doris Lessing titolo che avevo ricevuto durante un book swap ormai l'anno scorso credo che corteggiavo da un po' anche qui perché mi piaceva il tema e perché non avevo mai letto niente dell'autrice quindi ero impaziente di cominciare a conoscerla però devo dire che era tutt'altra cosa da quello che mi aspettassi comincio col dire che ho condiviso questa lettura con Claudia, Lise Legge, Lise Viaggia vi metto qui sotto il suo canale ma sicuramente la conoscete già e Simona che è una ragazza che ho conosciuto grazie a YouTube, gruppi di lettura e quant'altro che ho coinvolto in alcune letture e con la quale mi trovo veramente sempre sempre estremamente in affinità per quanto riguarda stili, temi, autori quindi vado un po' sul sicuro con lei perché credo siamo molto affini per quanto riguarda le letture quindi ci siamo ritrovate tutte e tre anche se poi siamo state un po' poco coordinate soprattutto io perché ci ho messo tantissimo anche a leggere questo libro però appunto diverso da quello che mi aspettassi io credevo fosse un libro tenero in generale invece di tenerezza ce n'è poca è un libro per certi versi molto crudo chiaramente racconta un'epoca molto diversa dalla nostra Doris Lessing è nata nel 1919 quando parla della sua infanzia e della sua giovinezza chiaramente sta parlando degli anni 20, 30 e 40 mi ha colpito molto perché l'atteggiamento nei confronti degli animali all'epoca era completamente diverso dal nostro non voglio entrare nel dettaglio perché uno ci sono aspetti molto crudi di questo libro che secondo me non sono proprio per tutti secondo me è un libro che se vi interessa il tema se vi interessa l'autrice va letto quindi non voglio dire troppo però per esempio tutto quello che riguarda la sterilizzazione oggi so che è un tema su cui le persone possono avere opinioni diverse però negli anni comunque la sterilizzazione degli animali si è affermata almeno in questa parte del mondo come un gesto di cura nei loro confronti all'epoca era vista come una crudeltà inutile e non era vista come una crudeltà sottoporre gli animali al ciclo continuo di gravidanze e nascite e soprattutto eliminazione dei cuccioli non mi spingo oltre perché appunto non sono temi per tutti però è stato veramente duro per me da leggere perché comunque sebbene ci siano sprazzi qui e là di tenerezza di affetto nei confronti di questi animali sono sempre visti come animali che possono essere eliminati in qualsiasi momento con sicuramente un sentimento molto diverso da quello che noi oggi abbiamo per gli animali domestici detto ciò mi ha colpita moltissimo la scrittura di Doris Lessing parla di tantissimi temi diversi affrontando semplicemente la questione gatti nella sua vita perché poi alla fine si si tratta di questo gatti molto speciali parla dei vari gatti che Doris Lessing fin da bambina e poi da adulta in Inghilterra ha avuto insomma in casa o ha accudito o adottato insomma in realtà si parla di molto altro e mi è piaciuto moltissimo questo modo che ha lei di usare la scrittura quasi come fosse una lente o una luce da puntare su tantissimi temi diversi pur restando semplicemente nell'orbita del tema che ha scelto di trattare quindi per me ha funzionato assolutamente come magnete nei confronti di questa autrice non è tenero o delicato come mi aspettavo assolutamente però sicuramente è stata una lettura interessante per approcciare questa autrice in un modo diciamo tra virgolette molto semplice nel senso che al di là dei temi crudi è comunque una lettura scorrevole che ci fa conoscere un'autrice in maniera molto agile ecco mettiamola così verso il finale devo dire c'è molta più tenerezza e umanità nei confronti degli animali appunto in generale forse non la lettura che mi aspettavo ma per quanto riguarda l'autrice sicuramente mi ha incuriosita tantissimo e passiamo da una lettura un po' faticosa come questa ad una assolutamente da divorare in poche ore e vi parlo adesso di Un tè a Chaverton House di Alessia Gazzola anche qui prima lettura di questa autrice quindi prima parte del wrap up accomunata da tre autrici che non avevo mai conosciuto e che ho approcciato per la prima volta Un tè a Chaverton House mi è stato consigliato ormai non so più quante volte da quando sono emersi abbastanza chiaramente i miei gusti in quanto a atmosfere dei libri ogni volta che ho parlato di Agatha Christie di Inghilterra, di atmosfere cosi e di quanto mi piaccia quella parte di mondo con la sua estetica mi è stato consigliato un tè a Chaverton House quindi l'ho acquistato in offerta Kindle motivo per cui appunto vi ho messo la copertina qui e avevo già deciso di leggerlo durante il viaggio in Irlanda mai scelta fu più azzeccata di questa era un libro che con quelle atmosfere ci andava a nozze sebbene il mio viaggio sia durato otto giorni e quel libro tra le mie mani sia durato tipo due giorni e mezzo ma è stato bellissimo leggerlo lì non è il tipo di libro che generalmente leggo non è particolarmente nella mia comfort zone perché più di tutto l'ho trovato comunque un romanzo rosa però devo dire che è stato godibile appunto bellissimo in quanto ad atmosfere e sostanzialmente in questo romanzo seguiamo la storia di Angelica che è una ragazza di 27 anni un po' alla ricerca della sua strada per un periodo ha insegnato poi in seguito ad un evento spiacevole ha lasciato tutto e si è messa a fare la fornaia però anche quell'esperienza è destinata a finire presto e Angelica sta un po' cercando la sua strada complice un mistero legato alla sua famiglia e ai suoi antenati Angelica decide di partire per l'Inghilterra dove inizialmente vuole fare delle ricerche ma dove si fermerà lavorando come guida appunto in questa Chaverton House nella finzione Chaverton House è stato il set di una serie tipo Downton Abbey per capirci un po' più trash e quindi le persone vanno a visitarla per questo e Angelica deve farsi una cultura anche su questa serie e su tutta la storia della casa quindi si intrecciano il suo desiderio un po' di cambiare vita e fuggire dalla situazione in cui si trova la volontà di scoprire la storia della sua famiglia perché appunto c'è un membro della sua famiglia che sembra abbia lavorato in questa tenuta moltissimi anni prima e poi ovviamente c'è l'elemento romantico c'è chiaramente di mezzo un uomo che le fa anche decidere di rimanere e con cui insomma la situazione è complicata ma abbastanza chiara in quanto ad attrazione tra i due quindi insomma tutti questi elementi lo rendono una lettura godibilissima chiaramente non è stato il romanzo dell'anno per me appunto non è neanche il mio genere però considerando le atmosfere considerando che ero in viaggio e cercavo una lettura che la sera potesse tenermi incollata alle pagine ma anche insomma farmi divertire è stato veramente molto molto godibile appunto io non ho letto nient'altro di questa autrice però questo approccio è stato assolutamente appunto piacevole e sono felice insomma di aver dato una possibilità a questo romanzo soprattutto durante questo viaggio quindi per ora chiudiamo qui con i primi tre titoli di cui volevo parlarvi che ho letto durante il mese di settembre io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi per il vostro tempo, i vostri commenti, il vostro affetto, il vostro interesse e noi se vi va ci vediamo nella seconda parte del wrap up ciao ciao